Ciao a tutti e cari amici e amiche dell'età romene, ben ritrovati con questo nuovo video interattivo. Prima di tutto se va iscriviti al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra in modo tale da ricevere tutti i prossimi video ed aggiornamenti. Ricordo inoltre che queste sono stese interattive, stese generalizzate e non possono quindi valere per tutti. Per quello vi consiglio se volete di optare per i miei consulti privati di cartomanzia, vi lascio qui sotto tutto nel box informazione. Un'altra piccola parentesi, molte di voi sapranno che sono anche un aromaterapeuta ed è con gran piacere e con grande orgoglio che è da circa una settimana che ho attivato il mio corso a distanza di operatore certificato di aromaterapia. Quindi per chi volesse diventare un aromaterapeuta certificato può iscriversi al mio corso a distanza. È un corso che non ha una data di inizio e non ha una data di fine. Vi lascio qui sotto il sito per entrare appunto anche a capire come si svolge il programma e quant'altro. Comunque sia il mio sito è www.lanaturalistica.com. Ma bando alle ciance, come avete visto dal titolo del video, andiamo a capire che cosa vi succederà da qui a massimo tra i mesi rispetto a quando aprite e ascoltate il video. Ovviamente dovete scegliere una fra queste tre varianti, ma nulla vi vieta di ascoltarle tutte e tre. Variante 1, evidenzatore rosa. Variante 2, evidenzatore arancione. Variante 3, evidenzatore giallo. Fate la vostra scelta, 1 rosa, 2 arancione, 3 giallo e incominciamo con la variante 1, evidenzatore rosa. Carissimi amici e amiche che hanno scelto la variante 1, vediamo attraverso l'asilo di vari mazzoracolari che cosa accadrà da qui ai prossimi tre mesi, quindi per un periodo comunque breve. Vediamo, allora, variante numero 1, rosa. Vediamo quello che potrà accadervi. Abbiamo la carta della concretezza, carta 37. Fate riferimento anche al numero 37 che può anche evocarvi qualcosa. La concretezza, quindi la realizzazione. Dopo momenti di blocco, dopo momenti statici, dopo momenti ostacolanti, anche per colpa di contingenze esterne, qualcosa prende forma, qualcosa si concretizza. Un sogno che avevate nel cassetto finalmente si concretizzerà, diventerà realtà. un qualcosa anche di grande, un progetto molto molto importante. Può essere un progetto di vita insieme ad un'altra persona, un progetto lavorativo, un qualcosa di burocratico, creativo, amministrativo, legato anche all'ambito economico, anche degli affari. Un qualcosa che diventa comunque materiale, anche dal punto di vista proprio di beni immobili. Qua abbiamo, ad esempio, un castello, ma qui potrebbe essere proprio il fatto di andare a convivere, di sposarsi, oppure creare una famiglia, oppure magari firmare per il mutuo, oppure per quanto riguarda una casa in affitto. Quindi qualcosa di positivo sicuramente accadrà da qui ai prossimi tre mesi. Quindi una situazione che sembrava essere appunto ostacolata da qualcosa o da qualcuno, sicuramente invece qua si aprirà e si concretizzerà. Quindi partiamo alla grande. Andiamo avanti con i tarocchi celtici. Vediamo cosa vogliono dirvi. Poi, dato che qua c'è anche un cellulare, qua magari potreste anche ricevere delle proposte, delle comunicazioni, da parte di qualcuno. Andiamo avanti con la seconda carta. È, beh, una carta del sorbo. Qua vi dice capacità commerciale, viaggi, vincite e risarcimento. Cosa c'è da dire? Qui un qualcosa di commerciale, qualcosa legato anche alle importazioni, esportazioni, lavori che vi collegano con l'estero, o anche legate ai viaggi. Qualcosa di veramente molto molto bello che prende forma, eh. Quindi un progetto molto importante. Avere proprio le capacità commerciali, anche per incominciare un affare molto molto bello. Potrebbe esserci con un viaggio, un viaggio per lavoro, un viaggio per le ferie, un viaggio per svago. Qua potrebbe esserci anche una vincita, una vincita, perché no, al gioco. Allora, visto che abbiamo il numero 37, il numero 53, mi viene da dire, provate a giocare questi due numeri. Poi magari nel corso della stesa ci saranno altri numeri, però 37 e 53 potrebbero essere i numeri principali per voi. Qui se stavate aspettando un risarcimento, danni, un risarcimento in denari, in denaro qua, sicuramente potreste proprio ricevere dei soldi e proprio a titolo di risarcimento. Quindi tanta tanta bella roba. Sono contento per voi. Ma andiamo avanti con la terza carta. Queste sono carte che non ho mai utilizzate, mi sembra, nei video. E sono queste. Angel, Dreams, Oracle Cards di Doreen Virtue e Melissa Virtue. Vediamo un attimino perché non l'ho mai utilizzate, eh. In interattivi. Allora, vediamo. Abbiamo la carta del Daydream. Eh, immagina puoi. Quindi c'è comunque questa persona che sta riflettendo, sta immaginando sogni che secondo me qua secondo me qua potrebbe esserci proprio qualcosa di reale, qualcosa di concreto. Qui dovete anche prendere un po' di di pausa. Ok? Dovete concentrarvi, dovete focalizzare la vostra attenzione su un qualcosa, su una dinamica e perché no sicuramente qua anche il fatto di riflettere vi permetterà di ehm superare questa situazione ostacolante, questa situazione ehm di blocco. Quindi questa carta vi dice ehm prendetevi dei momenti di pausa, prendetevi comunque dei momenti di riflessione perché il fatto di acquietarvi, di cercare di ritrovare un vostro equilibrio anche dal punto di vista energetico, questo vi darà tutte le diciamo le carte in tavola per poi affrontare questa fase di concretizzazione ancora in maniera ancora più ehm più strong e più impattante. Avete un sogno nel cassetto ma qua sicuramente eh io proprio lo percepisco che questo sogno eh diventa realtà. Ok? Ma andiamo avanti con un'altra carta. Vediamo i tarocchi, cosa vogliono dirvi. Ok, abbiamo questa carta. Allora qui se avevate avuto dei momenti di defaianza economica anche proprio di povertà e il fatto di essere magari disoccupati essere stati licenziati non preoccupati perché anche se avete avuto questo periodo chiamiamolo tale di recessione qui eh abbiamo queste altre carte molto positive quindi questo momento di eh defaianza eh finanziaria ehm economica eh quindi un momento proprio di avversità eh secondo me qua andrà proprio a risolversi perché ripeto siamo contornati da carte molto molto positive ma vediamo l'ultima carta che è l'oracle belline anche questo un oracolo che da un po' che non utilizzavo i miei interattivi questo l'utilizzo parecchio invece nelle stese private vediamo cosa vogliono dirvi eh queste carte dell'oracle belline abbiamo la carta dell'incostanza carta numero tredici allora il messaggio che vuole darvi questa carta è proprio quello di ricordarsi che c'è sempre una scelta nella vita dipende solo se si ha o meno il coraggio di compiere quella scelta qui c'è un po' di incertezza c'è un po' di tormento interiore ma dovete guardarvi dentro dovete essere responsabili di voi stessi qui ci sono alcuni dubbi da risolvere ma questi dubbi queste forti incertezze verranno spazzate via perché ripeto abbiamo carte molto positive che vanno a circondare comunque anche questa carta dell'incostanza qua secondo me dal punto di vista lavorativo se avevate un contratto di breve durata ok secondo me qui con queste carte diventerà anche un contratto stabile un contratto a tempo indeterminato è importante non farvi condizionare dall'ambiente esterno ok quindi dovete cercare di prendere una decisione ma per conto vostro ed è il momento di lavorare sulle vostre domande proprio nella vostra interiorità quindi nella vostra diciamo vita spirituale dovete ripeto guardarvi dentro con profonda stima con profonda determinazione e cercare tutto quello che la vita vuole comunque offrirvi e tutto dipenderà da voi ma sono sicuro che ce la farete in bocca al lupo proseguiamo con gli amici e le amiche della variante 2 arancione anche per voi dei messaggi da qui un periodo di massimo tre mesi rispetto a quando aprite ascoltate il video vediamo un attimino utilizzare la prima carta oracolare variante 2 arancione vediamo cosa vogliono dirvi in questo caso gli oracoli allora abbiamo la carta del dolore afflizione sofferenza carta 73 allora per alcuni di voi sarà un periodo un po' tormentato un periodo di sofferenza di dolore di appunto afflizione ci saranno proprio anche in questo caso della tristezza un mood diciamo di angoscia un dolore che proprio percepisco vi portate dentro da diversi anni un dolore che vi ha arrecato proprio una ferita emotiva profonda quindi saranno mesi per alcuni di voi molto difficili però andiamo avanti e vediamo un attimino se ci potrà essere anche un'apertura un qualcosa di più positivo per affrontare al meglio questa fase di sofferenza ok vediamo quindi il secondo messaggio con la carta dei tarocchi vediamo un attimino cosa vogliono dirvi i tarocchi quindi abbiamo capito che sarà comunque un momento un po' negativo però vediamo se qualcosa di passeggero irrisolvibile abbiamo la carta del cavaliere di bastoni però rovesciato allora qui c'è molta molta impulsività da parte vostra sarete molto iperattivi attenzione a non affrettare i tempi in un rapporto in una situazione lavorativa o economica sarete un po' tra virgolette spericolati avventati quindi attenzione appunto a non fare scelte avventate proprio anche in maniera impulsiva secondo me sarete fin troppo fiduciosi nei confronti di un'altra persona ma attenzione aprite bene gli occhi perché questa persona o questo gruppo di persone potrebbero in qualche modo mettervi bastoni fra le ruote e per questo che potrebbe esserci proprio questo periodo di dolore proprio anche per colpa di persone delle quale voi sulle quale voi avete riposto eccessiva fiducia ma che in realtà si comporteranno in maniera opposta dato che è uscito questo cavaliere di bastoni potrebbe essere un uomo o una donna dei segni di fuoco quindi ariete leone sagittario che abbia l'ascendente in uno di questi segni quindi fate un po' un esame di coscienza capito un attimino chi potrebbe essere questa persona che magari incontrete proprio durante questi mesi ma andiamo avanti con l'angel dreams oracle cards vediamo un attimino che cosa vuole dirvi questo oracolo che non ho mai utilizzato prima d'ora negli interattivi vediamo un attimino variante due arancione quindi riflettete su tutti questi messaggi che vi sto comunque o meglio che le carte vi stanno offrendo abbiamo la carta dell'acqua allora qui c'è del comunque sia vivrete delle emozioni ok sicuramente c'è secondo me visto che abbiamo carte un po' negative le precedenti qua c'è un po' di defaianza emotiva il fatto di non riuscire ad essere voi stessi nella vita di tutti i giorni il fatto di provare proprio una ferita emotiva e quindi ritorniamo al discorso di prima quindi una persona anche un gruppo di persone che potrebbero in qualche modo farvi del male e vi arreccheranno una ferita emotiva quindi questo è proprio legato all'acqua legato alla sfera non solamente sentimentale ma proprio in generale amore amicizia vita familiare un qualcosa che genera un forte turbamento interiore ma andiamo avanti con i tarocchi celtici vediamo cosa vogliono dirvi queste bellissime carte di Laura Tuan vediamo non saranno mesi facili però anche poi dalla sofferenza si cresce qua ripeto sono comunque sia degli interattivi non possono valere per tutti allora abbiamo la carta del pino argentato qui il pino argentato mi parla di nascita quindi qua potrebbe esserci una gravidanza comunque una fase di rinascita di rinnovamento anche se dovrete affrontare un periodo di forte dolore però questa carta mi dice che sarete anche abbastanza speranzosi ok perché volete un po' recuperare il vostro equilibrio psicofisico ed emozionale quindi lavorerete anche un po' su voi stessi per ritrovare comunque il benessere un certo benessere da puntista soprattutto emotivo perché voi volete ritornare a provare emozioni e a non farvi mettere i piedi in testa dalle altre persone questo è di estrema importanza ma vediamo ora l'oracolo di belline vediamo cosa vuole dirvi questa ultima carta vediamo variante arancione oracle di belline vediamo cosa vuole dirvi abbiamo la carta del pensiero dell'amicizia che cosa sta a indicare questa carta qui in alcuni casi alcuni voi che sono single potranno trovare all'interno della vostra cerchia di amicizie una nuova persona un nuovo diciamo amore però fate attenzione perché se dovesse essere una persona dei segni di fuoco mi raccomando dato che questa carta è uscita al rovescio attenzione proprio all'intenzione che ha questa persona poi dipende anche molto da che cosa voi cercate nell'altra persona soprattutto se siete single da puntista lavorativo in alcuni casi alcuni amici potrebbero potranno consigliarvi un'occupazione anche un impiego quindi il cosiddetto passaparola e grazie a questo passaparola riuscirete anche a trovare un lavoro che sia un lavoro definitivo ovviamente è presso per dirlo per quello ci vuole anche un consulto privato e da puntista proprio del commercio degli affari sono sempre queste amicizie importanti che porteranno a raggiungere i vostri obiettivi anche proprio in termini economici e di affari c'è una sorta proprio di evoluzione interiore nonostante questo periodo di afflizione di dolore che dovrete affrontare riuscirete comunque sia superare superare comunque questa fase di diciamo di grigiume di nuvole e ce la farete ce la farete ma grazie a voi stessi grazie alla vostra forza la vostra tenacia in bocca al lupo proseguiamo con la variante numero 3 per gli amici e le amiche che hanno scelto la variante gialla anche per voi un messaggio da qui a massimo 3 mesi rispetto a quando aprite ascoltate questo video incominciamo con l'oracolo del taromen vediamo che cosa vuole raccontarvi la prima carta variante gialla allora abbiamo la carta della chiusura in se stessi solitudine carta 75 allora qui durante questi mesi c'è proprio una chiusura in voi stessi volete un po' stare in disparte non volete troppo mettervi in gioco mettervi in mostra mettervi in discussione volete stare un po' per conto vostro quindi anche il fatto magari di dei single non sono ancora pronti per approcciarsi a una novità amorosa o per quanto riguarda nuove amicizie volete ritrovare proprio delle risposte e le risposte sono solamente dentro di voi e le risposte le riceverete grazie a questi momenti di comunque solitudine ok il fatto di chiudervi un po' in voi stessi che a volte male non fa andare proprio a fondo nel vostro cuore nelle vostre emozioni e cercare poi di risollevarsi e ovviamente cercare prima di tutto di rispondere ai vostri interrogativi per poi andare avanti dovete capire un po' il perché vi trovate in questa situazione e magari come uscire da questa situazione proprio di di chiusura e anche magari di un certo ostacolo blocco emotivo ma andiamo avanti con il taroc e vediamo cosa voglio dirvi allora vediamo qua magari alcuni voi che sono in coppia potranno avere una non so una pausa di riflessione vorranno stare magari da soli per capire cosa fare di questo rapporto e infatti qua abbiamo la carta dell'appeso l'appeso è proprio una carta di blocco ok una carta anche un po' di incertezza una carta che vi dice cercate di rimanere un attimo fermi ok cercate di vedere quella faccenda quel rapporto da una nuova prospettiva e dovete ritrovare una nuova direzione e cercare di mettere una diciamo nuova marcia alla vostra vita ok quindi sarete un po' in contemplazione ok quindi qua sembra che poi l'apparenza sia una fase di blocco ma in realtà non lo è è una fase di blocco apparente che vi aiuterà ancora di più ad uscire da una situazione di diciamo instabilità instabilità a tutto tondo non solamente da puntista amoroso può essere anche in campo lavorativo economico e quant'altro vediamo ora l'Angel Dreams Oracle Cards vediamo un attimo che cosa vuole dirvi questo oracolo allora vediamo un attimo che cosa vuole comunicarvi abbiamo la carta dell'acqua quindi qua ritorna l'acqua qui anche l'acqua qui quindi sicuramente sarà un mese cioè saranno dei mesi in cui dovrete cercare di lavorare sulle vostre emozioni sulla vostra intuizione sulla vostra sensibilità sicuramente dovrete ricominciare a provare emozioni verso voi stessi quindi volersi bene per poi voler bene amare le altre persone ok qua c'è comunque un senso l'avverto un senso di forte rinnovamento e forte rinascita ma molto sarà proprio questa fase di introspezione solamente se vi chiuderete in voi stessi poi pian pianino riuscirete a riaprirvi riaprirvi proprio anche nei rapporti con gli altri perché no anche riallacciare un rapporto di vecchia data che magari si era interrotto durante i mesi precedenti ma vediamo i tarocchi celtici che cosa vogliono comunicarvi di ulteriore vediamo quindi variante gialla numero 3 abbiamo il pioppo bianco infatti qua abbiamo una fase un po' di squilibrio qui c'è la carta dei debiti e delle spese quindi potrebbe esserci per alcuni di voi delle spese impreviste dei debiti che dovrete affrontare e attenzione a degli imbrogli soprattutto in campo economico e finanziario quindi mi raccomando attenzione se dovete firmare dei fogli dei contratti dei documenti guardate bene tutte le clausole contrattuali mi raccomando perché questo è proprio è uscito proprio il pioppo bianco però energie comunque rovesciate ok quindi questo è un ulteriore messaggio per voi ma procediamo con l'oracle di belline quindi questa è l'ultima carta l'ultimo messaggio per voi della variante numero 3 vediamo cosa vogliono dirvi le carte di oracle belline abbiamo la carta della saggezza quindi sarete sicuramente saggi sicuramente durante questi mesi questa carta è sicuramente molto collegata alle altre perché vi dice che la puntista sentimentale la puntista emozionale è il momento di guardarsi dentro di capire esattamente ciò che si vuole e con calma chiudendosi anche in voi stessi valutare i pro e contro di una nata situazione è proprio connessa all'inconscio a quella vocina interiore quindi questa carta vi dice in alcuni momenti proprio di cambiare strada di essere maggiormente lucidi di essere maggiormente vigili e più razionali soprattutto in ambito sentimentale dal puntista lavorativo dovete prendere tempo sedervi un po' a tavolino e valutare ok quindi dovete cercare quindi di vedere a 360 gradi e quindi non lasciarsi sfuggire nulla e allora solo in quel momento tutto sarà più chiaro anche in ambito lavorativo ed economico le risposte sono dentro di voi quindi dovete ripeto meditare e la meditazione in questo caso potrà anche farvi percepire cose che non avevate percepito fino a questo momento e questa carta è molto collegata al chakra della corona quindi dovete lavorare sul settimo chakra quindi cercate proprio di meditare in bocca al lupo